Bene ragazzi, cari di come non va da FuseGamer Oggi ragazzi Oggi! Oggi e oggi! Presa! Domani è domani Ma sempre e comunque forza Napoli Oggi Sampdoria, Napoli Partita ostica Ma secondo me possiamo dimostrare di avere le palle Ecco qua, fanno appunto il cerchio Il rito I nostri beniamini Wadju, oggi una sola cosa E basta Vincere! Comincia, dai! Dai! Vai Napoli, dai! Per favore! E lì, vada Rapi Oh, 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 oh! È rigore questo, Wadju! L'ha preso? No, è rigore netto, Wadju, è rigore netto È rigore netto Da vedere Sarebbe un rigorino, onesto Se l'ha sentrato, se l'ha fatto male Non lo so, per me è rigorino Cioè, come l'ho vinto? Vai, a vedere Illusione, l'illusione Madonna Mirko, madonna Mirko, perché? Ah! È rosso! È rosso! Scusami Guarda la guarda Non può essere rigore Rosso! Non ha preso con la... No, non può essere rigore Perché non può essere rigore? No, non vuoi, perché la palla è già lontana È lanciata Non l'ha fatto valandariamente, capito? Cioè, la messa che c'era radia Non credo Che dolore Si è fatto male Si è fatto malissimo No, ma non è male Guarda, guarda, guarda Il mio è rigore netto Guardi questo qua Papo, se ce lo danno Però per andare, significa che ce lo danno Lo prendiamo Sicuramente ha detto Vai a vedere Perché la situazione è da controllare Non è sempre Non è quello che pensiamo Ma ha fatto il gesto Rigore! Vai! Se lo prendiamo Signori! Signori! Berusso! C'era una polemica ma non ci importa L'importante è ora No, no, ci vogliamo Va, sei proprio Politano lo tira Si, Andre? Vai! No! Lo sapevo! Cazzo! Ma dai, sui rigori facciamo cagare! Sui rigori facciamo cagare! Lo sapevo! Vai! Abbiamo sprecato l'occasione della partita Vai! Vai! Come sbagliare sui rigori Da una stagione? No! Ma non c'è uno che batte buono Sti rigori No, Kim! Kim! Ma perché facciamo tutte queste cagate? Non abbiamo mai fatto tutti questi errori Vai! Madonna mia! Marata Stiamo facendo degli errori Siamo irriconoscibili Vai! Andiamo a Creoggia Bravo Victor! Bravo! Bravi! Bravissimo! Forza! Vagli forza! Se puete! Guarda! Fatto vedere qua! Oh Victor! 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 Vagli forza! La reazione! Grazie! 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 Grandico! Grazie! Per me! Per me! Per me! l'ha iniziata lui questa azione, l'ha iniziata, e l'ha conclusa ha raccordato con la squadra, bravo Simenta bellissima un attaccante nero che grande palla grande palla di Mario Rui eh che palla, ma io che palla altro che di Marco l'eleganza sblocchiamoci sblocchiamoci, soprattutto Kvara Kvara! vai Kvara! vai Kvara! rigore l'hai stato trovato, l'hai rigore lo c'era però, mo c'era mamma, t'ho frate l'hai stato ma ci capite ma tira fatelo ma nonno, ma corre, ma corre braaavo vai Vittorio braaavo è rosso è rosso si si era rosso è rosso brutto stava andando contro la porta e stava in 2 contro 1 vaiu è rosso onesto se non è rosso questo rosso non sta mai allora no è entrato proprio male vaiu 2x ringon 2x io vengo e gli faccio no no gliela dai gliela dai vaiu ma stiamo scherzando quanto Marelli ha detto che non era rosso ha detto che non era rosso un'altra volta vaiu due decisioni su due questi qua si prendono i soldi e non sanno fare manca il loro lavoro due su due le cacate vaiu finisce il primo tempo finalmente un grande Napoli vaiu si 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 ho visto la reazione della partita con l'Inter le reazioni anche dopo il rigore sbagliato comunque un po' un colpo te lo dà però penso che la partita hanno avuto delle occasioni sui nostri errori i primi 10 minuti vaiu un po' di un po' bruttini con il rigore appunto però ci siamo mettiamo il passione sempre dai 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 comincia dai dai vamo 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 Napoli close continua la la ma non ho pensato il rigore lo bo bucaa nooo oh iniesta mannaccio la lo bo dovevi proprio bucare lo bo stava per iniestare tu di là la tira ah l'ombele allarga oh la buona ma i ciuchini è il ciuchino nooo una porta intera una porta intera una porta intera in bocca si è liberato bene la tira con una porta intera gliela le dà in mano andrei deve tirare la con una porta intera gliela le dà in mano porca miseria una porta intera si vai si lasciala la doveva lasciala ma no ma è netta è netta è netta è netta è netta è netta questa qua è netta ma non scherziamo stava dando la palla a coso la chi cazzo si viena la zilisi cioè era proprio netta è netta è netta è netta è netta non variamo eh netta vai un netta braccio la vai un ricordo non va va appiccicato con un po' di scherz eh ci sta se se la sente ci sta ma perché ci sta ma non possiamo far tirare tutta la squadra io te lo dico io non possiamo far tirare tutta la squadra però ah se è incazzato se ma senza i rischi io ci metto è netta ma lo dire pure netta no vai io se è incazzato se questa cosa questa cosa che non ci sta un rigorista o non ci sta una gerarchia ci sono delle gerarchie non c'è una gerarchia non c'è una gerarchia non c'è una gerarchia si poteva questa allenatura che qua decide infatti il fatto che non ci sia una gerarchia è contro... ma noi segniamo tu chiedini ma non va bene ma noi abbiamo segnato perché no sei il nostro portata a casa dai vediamo la SIII Dai Uaiu Che ci voleva fare su Re Ze Sudato Le mi è piaciute Abbiamo creato tante occasioni ma bisogna chiudere, bisogna chiudere che all'ultimo ce lo metterà al culo Ma è il secondo almeno devi fare Non lo fa battere, non lo fa battere, finisce Prevate Stiamo arrivando ragazzi, stiamo arrivando È il momento, è il momento, dico solo una parola Umiliamoli, umiliamoli perché siamo in grado di umiliarli Venerdì sera Comunque Vagiu, questo è il momento di osare È un momento importante di dare A parte questa partita che ovviamente è stata ottima del Napoli Però dovevamo chiudere la prima Ma adesso bisogna dare un segnale al campionato Un nodo cruciale Sì, cruciale Che oltre a un fattore mentale diamo anche un segnale al campionato Di chi siamo veramente Dai, dai Vagiu Facciamo vedere che siamo padroni Dai Dai, dai Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale Non ci vediamo nel prossimo video Buona ragazzi Ciao per ium Contro la rovescia Mamma mia, io non vedo l'ora, mamma mia Ciao per ium